Musica No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alla prossima Emi no Emi no Emi no Emi no Ben iyice depremler gördüm kolay kolay yıkılmam Her defasında kaybetsen yine de hiç üzülmem Aslında bu kadar da kırılgan değildim Kendi yarattığım düşmanlara yemindim Bir kayboldum sonra tekrar belirttim Masallardaki gibi Bir varmışım Bir yokmuşum Bir varmışım Bir yokmuşum Sen bana imkanlar sundun Ben bunu kabul edemem Şimdiye kadar yalnızdım Öyle bak diye değiştiremem Aslında bu kadar da kırılgan değildim Kendi yarattığım düşmanlara yenildim Bir kayboldum Sonra tekrar belirttim Masallardaki gibi Bir varmışım 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 C'è l'escrizione dell'escrizione dell'escrizione? C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? 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 C'è? C'è un po' che 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 c'è? C'è? C'è un po' che 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 c'è? Grazie. Non è lo stesso, basta con tutti i ragazzi, dunque non lo posso fare, non lo posso fare. Non lo posso fare perché fare nanti a me, non ho fare nanti a me. Non ci qualcosa di Quresh, bisogna messo la mia vita. Non farò la mia vita, non farò, le ho parlato a fai con la mia vita. L'apore della 103? L'apore della 103. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ma si exploded, non era facile. Dov'è dir l'affermazione? Dov'è? Fai. Non so se niente, non so se non ti, mi ha detto che c'era la sua godizione. Si io niente, è un esame del comune? Che cosa hai detto, non si tratta. Che? C'è un po' di più. No, no, no. 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 No, no.